Quest'oggi torniamo con una follia nella maletà parco giochi Allora, in parte ci riscatteremo per il passato E in parte andremo oltre e faremo qualcosa di più epico Vogliamo coprire tutto il cratere Ma soprattutto riprodurre il magazzino muffito come era tempo fa Quindi ricostruire i tre magazzini Quindi riparare il secondo e costruire da zero il terzo Tappare tutto il cratere e ricreare la zona come era un tempo Non è per nulla semplice, è un'idea che abbiamo visto da Laserbeam Un canale internazionale, ce ne teniamo a nominarlo perché l'idea non è nostra Quindi ci teniamo e ne approfittiamo perché così ci riscattiamo anche sul cratere Che se vi ricordate tipo un mesetto fa abbiamo coperto al 70% Non abbiamo fatto in tempo a coprire tutto perché nei server privati c'era il problema Che la zona arriva e rompe le scatole Qua non c'è il problema quindi ci riscattiamo malamente Ora che c'è la parco giochi si può rifare tranquillamente Oh yes Allora, iniziamo a formare legna Ho il cicito sincronizzato Allora, iniziamo a formare legna Sì, io vorrei prendere anche dei lama perché in questo modo ho subito materiali Ok Ottimo, ce n'è anche uno lì, perfetto Sì, ho sentito che Nat ne ha trovato uno quindi è una cosa ottima Opla, bouncer, cosa abbiamo? Ah, questo ce lo prendiamo, dai, giusto per dire di prendere qualcosa Quindi funziona così I magazzini li bugliamo tutti completamente in ferro Il cratere lo bugliamo tutto completamente in legno E le fondamenta dei magazzini, se ti ricordi, erano fatti i mattoni Quindi andiamo a riprodurre anche quello Alla fine non possiamo sbagliare perché comunque Ne abbiamo uno Il primo magazzino in parte è ricostruito Quindi si vede che sotto va Esatto, esatto, era uguale identico Uguale identico Dai, poi ovviamente adesso è tutto un po' più rialzato Perché è tutto distrutto dal cratere Ma ce la facciamo A modo nostro lo facciamo A modo nostro, certo Non è un grosso problema Allora, questo camion dovrebbe darmi un botto di ferro Così per dopo sono un bello carico di ferro per fare i magazzini Quindi inizia a prendermelo Opla, ovviamente 999 di legna Farai, ma tu vuoi iniziare a fare il magazzino? Ci stavo pensando Perché sai, io ho la responsabilità, non me la vorrei prendere No, ma neanch'io me la vorrei prendere Eh, ma tu sei più brava Qualcuno deve fare il lavoro sporco Esatto Deve fare la cosa più difficile e farci la figuraccia Quindi me lo prendo io Ok, grazie Allora, il problema è che ho bisogno di trovare dei mattoni Ehm Dove me li procuro dei mattoni? Ne ho 200 Ok Non sono un granchè Però se vuoi te li posso iniziare a dare Ok, allora mi sa che per ora comunque metto anche un po' di legna Ok Perché l'ho appena farmata, quindi mi conviene Ok, dai va bene, va bene, va bene Allora per ora tappiamo un attimino il cratere tutti insieme Così andiamo velocissimi Esatto, quindi facciamo anche questa cosa super veloce Poi ci aiutiamo tutti dai Ok Allora, secondo me raga il cratere riusciamo a tapparlo tipo a 48 Quindi ci mettiamo secondo me 5 minuti Mentre nei server privati, se vi ricordate, il 70% abbiamo fatto tipo in 15 Beh, perché mica avevi materiali aumentati Dovevi farmare tutto Toccava pedalare, andare in giro per la mappa Era difficilissimo Andare lontanissimo perché in questa zona comunque non c'era molta legna Perché se vi ricordate il cratere non aveva questi alberoni che sono comparsi No, infatti Che succede Steph? Non mi ero accorto di aver finito la legna Ah, e sei caduto di sotto? No, bilatto mattoni Ah, ok Mi tocca pure spaccare Ancora peggio Perché non guardo le cose io non lo so Vabbè è normale, sei veloce, ti distrei un attimo So solo che non sono intelligente Ma questo lo sappiamo Steph, non c'è bisogno di fare una canzone triste Guardate qua come sta costruendo, che brava ragazza Ok, torno a continuare No, il problema è che ora a certa parte di questo magazzino andrà chiaramente distrutta Per far spazio poi alla parte buona, no? Sì, sì, teoricamente sì Opla Ok, tre alla volta, tre alla volta, tre alla volta Raga, forse sono tipo 10.000 di legno il cratere È una roba incredibile È davvero enorme Cioè si capisce che è enorme Ma poi quando lo devi tappare tutto Ti rendi conto che lo è davvero tantissimo Ok, allora Sto andando via con altri 999 Soltanto mettendo tre di così Sì, 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 sì Fare tutto il cratere in lunghezza Mettendo tre piattaforme alla volta Vuol dire mille materiali Ok Quindi alla fine sì Come minimo sono 10.000 Allora Manca di più Devo ricostruire sta parte Opla Arriva la parte difficile Opla Che dici? Certe pareti un po' rotte Le rompo? Oppure ricostruisco quello che manca e basta? Mi fido del tuo giudizio No, io non mi fido del mio giudizio Lo so Mi sto domandando Io non voglio responsabilità Allora, per ora, ascolta Facciamo la parte che manca Vediamo come esce e poi si decide Va bene, va bene, va bene, va bene Allora, con Sandro E come siamo messi? E il fatto che Manca ancora parecchio Direi che facciamo un bel taglietto E compariamo di nuovo Quando siamo a buon punto Perché è un video Dove costruiamo per 30 minuti Non credo che possa interessare a nessuno Bene, come sta andando? Procede, Steph Allora Ho riportato il secondo magazzino Il primo Gli ho fatto qualche modifichina Poi vedrò se sistemarlo E sto iniziando a costruire il terzo Quello che manca totalmente Ok Quindi la parte difficile L'hai appena iniziata? Sì Perfetto Allora, raga Qua direi che ci siamo quasi Come potete vedere Da sotto Fa impressione Da quanto è figo Fra poco ve lo faccio vedere È spettacolare Però Manca ancora un pochettino A sto punto io ti direi E non so se te lo aspettavi Ok Ma il cratere all'incirca fare Sono 20-25 mila di legna Ma davvero? Cioè io pensavo Che la parte più difficile Sarebbe stata rifare i magazzini Invece a quanto pare È costruire di nuovo Cioè tappare totalmente il cratere Beh sai Ok Mille li fa in fretta Però Devi anche piazzarli Li devi comunque fare Quindi Non è così banale Io per il più sto andando proprio al millimetro Nei punti dove sono un po' più bassi Sto mettendo delle rampe Per tapparlo tutto perfetto Perché boh Ormai lo facciamo bene Secondo me Certo Dobbiamo fare un ottimo lavoro Però sì Sinceramente non mi aspettavo così tanta legna Per tapparlo tutto Mi ero reso conto Quando avevamo fatto Che era tantissima la legna Ma sai Ne farmano 999 Un po' tutti E non ti viene da fare il calcolo Di quanta legna realmente serve No certo E invece È tantissima Ok Allora Siamo secondo me All'80% Giù di lì Penso Ma ce ne sono ancora alberi Non so che sei affatto Eh sto controllo Se ci sono un po' di alberi Vabbè Comunque scendo di sotto A priori Allora guardate Come cavolo si vede da qua sotto Cioè È incredibile La cosa più bella secondo me È vederlo proprio da sotto Non l'avrei mai detto Ma fa un effetto Troppo spettacolare E' stranissimo E in ogni caso Dai Vedendolo anche qui dal basso Direi che si va a confermare Siamo circa all'80% Manca ancora un po' Che sì Sarà faticoso Però Non manca neanche troppissimo A questo punto Andiamo a vedere Quello che ha fatto Fer Non l'avete ancora visto Giustamente Quindi a questo punto Andiamo A vedere un pochettino Il cratere è completamente finito Quindi ci siamo riscattati Con la prima cosa Adesso La seconda parte È appunto Questo terzo magazzino E Fer la vedo un pochino In difficoltà Direi che Porca miseria Se lei mi può dirigere Il lavoro Io posso darle una mano Ad esempio E Steph è da finire C'è solo il tetto da fare Non è che ci vuole molto Ok E poi spaccare ovviamente Le cose in legno Che sono rimaste in più Che mi servono per salire Da una parte all'altra E niente Devi solo seguire Ma anche tappare Quei mattoni dovresti Cioè Cioè qui perché è rimasto Aperto Sì devo finirlo Ti metto tutto mattoni E poi lo modifichi tu Va bene Perché non so Come lo stavi gestendo Non è difficile La modifica È molto semplice Non voglio responsabilità È molto semplice Ci stai lavorando da un sacco Se sbaglio qualcosa Poi mi mangi vivo Porca miseria Settimo due Cioè allora Guardate Magazzino Che sta finendo Tutti i portici qua Come era un tempo Si entra qui E questo qua è distrutto È tutto completamente riparato Vedete L'altro ovviamente Ragazzi è sempre stato Quindi poca roba da fare Quindi questo qua È tutto molto semplice Ma la chiappi sotto Però È una figata Io a sto punto Vado in alto A vederlo dall'alto Tanto è finito Ah gli ho fatto dal contrario Sì vai Ciao Stavo impazzendo Buon lavoro cara No no Non esiste il buon lavoro È certo che esiste il buon lavoro Non esiste per niente Perché non arrivo da nessuna parte Ho finito anche la legna Ma come ci salgono i posti Che quello è più facile da spaccare Chiedi lì in alto Sicuramente è a mazzo No sto impazzendo Steph Vieni a darmi una mano e basta Ma io sto andando in alto Non rompere Ma mi hai detto tu vai No non andare più E ormai sono lì Allora Metallo ok Qua C'ho voglia di costruire ancora Muro normale Ho lavorato un sacco oggi Allora guardate Prego chiappamelo Muro non vuole Ok E poi lì Sto impazzendo Non ce la faccio più Vieni guarda Pronta Sì Crattere No no devi proprio vedere la cena No no Steph devo finire Ferre devi vedere la cena No lo guardo dopo dai Devi vedere Dai non mi rompere Ferre è importante vedere il proprio lavoro Non lo voglia Altrimenti poi Dai muoviti Da E poi Opla Eh Brutti No dai Sono bellini Stai facendo un ottimo lavoro No li ho fatti brutti Non è vero È un ottimo lavoro Ferre Allora Sono tutti d'accordo Giusto Consolini E questo devo risalire sopra Ok Comunque da magazzini mufiti A magazzini consolini A differenza tua Ha capito come si fanno le cose Quindi sta dando una mano Steph È per quello che c'è Nat Eh appunto Per compensare la stefagine A differenza tua fa qualcosa Io volo Allora Dai manca poco Ok ha capito che qua deve fare le cose Bravo Nat Bravo Meno male che guarda Non ho bisogno neanche di parlarti Perché capisci subito Allora Devo fare quindi Il tetto Ok E ho finito Totalmente L'arredamento dentro Non lo faccio eh Basta Faccio io No 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 Non toccare nulla Perché mi sto incasinando Allora la porta per andare qui sopra Ok Ok Praticamente è finito Andiamo a fare Ok Muro Muro È finita raga È finita Allora questo lo possiamo togliere Io inizio a toglierti un po' di legno in giro Va bene Ok Opla Ok Vediamo se hai lasciato qualche impalcatura Qui e lì per lavorare Qua non c'è nulla Qua non c'è nulla Ok Finito Stef Finito tutto? Sì finito Oh yeah Devo rompere le scale qua Che non ci fanno nulla Però è finito Il magazzino l'ho fatto Nat mi ha aiutato Abbiamo finito Basta Finito Ce l'abbiamo fatta Sì Ce l'abbiamo fatta Sono stata una faticata Hai visto? Però ce l'abbiamo fatta Tu dici No Stef è impossibile Eccolo Fatto Ennesima follia completata Ballo insieme a Nat Perché abbiamo finito Cratere completamente finito Tre magazzini Siamo tornati A come era un tempo Hai visto le scale Che le ho tappate Per ancora cosa ho preso? Portici Ti hai preso? Questo ballo Ti piace? Molto Carino Carino Anche se poi qua Ad essere pignoli Avremmo dovuto fare degli altri Portici Ma vabbè Pazienza L'importanza è Vieni 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 Che vediamo bene dall'alto Io l'ho già visto Io voglio rivedere Voglio vedere il mio lavoro completato Oh dai Carino Perlomeno rispetta la sua forma originale Ok Vabbè Ti dicevo Rispetta la sua forma originale Quindi ha senso no? Sì Dai ci sta Carino Carino Sono due a un'altezza E una un'altra Però vabbè Su quello non ci si poteva fare molto Ora dai Rimane là E vabbè Dai Non è un grosso problema Allora Facciamo Ferre Stai cercando di arrivare? Sì ma non ce la faccio Rimango qua Lasciami in pace Non ho più materiali Praticamente per costruire Quindi non riesco a farmi la rampa Ok Missione compiuta Ci siamo anche riscattati Col cratere Abbiamo rifatto i magazzini Carino Carino Sono molto felice Sono super soddisfatto In ogni caso Ci fermiamo così Qua sotto Come sempre Comprate in un altro video Iscrivete al canale Cliccate la campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao